minaccia mi ricordo tanto tempo fa i miei nonni abitavano in montagna ad un tratto c'era pericolo di frana all'interno della casa ed erano minacciati avevano paura era pericoloso purtroppo la casa è andata distrutta ed era impossibile continuare a vivere lì si sono dovuti trasferire in affitto in un palazzo